A Montesilvano tanta paura e apprezzione per un incendio che è divampato intorno alle 6.30 di questa mattina in via Adige. Le fiamme provenienti da un garage al piano terra di un'abitazione hanno richiamato l'attenzione del proprietario che subito è sceso nella rimessa e ha spinto la vettura fuori, una Fiat Panda, evitando il peggio. È stato lo stesso proprietario di allertare i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara che sono intervenuti tempestivamente. Malgrado le fiamme, l'appartamento al primo piano non ha subito danni strutturali. Al momento non c'è alcun elemento per risalire alle origini del rogo.